Luneto di Bore, 12 luglio 2020, 76esimo anniversario della battaglia di Luneto del 14 luglio 1944. Si è svolta domenica scorsa, 12 luglio, a Luneto, la piccola frazione di Bore, la commemorazione del 76esimo anniversario del combattimento di Luneto tra gruppi partigiani e nazifascisti, dove persero la vita 5 partigiani sotto il fuoco infernale di una mitragliatrice piazzata sopra un caro armato nemico. Era il 14 luglio del 1944, caddero i fratelli Rolando, detto Kruger, e Emilio Vignali, Tego, Carlo Bottoni, Tom, Vittorio Sorenti, Tempesta, e Armando Leoni, Carlos. Due i feriti, Roberto Mazzoni e il comandante Vittorio. La giornata è stata organizzata dall'ampia associazione nazionale partigiane d'Italia, insieme ai comuni di Bore, Pellegrino Parmense e di Salso Maggiore Terme. Alla presenza delle autorità civili e militari è stata celebrata una santa messa a suffragio dei caduti sul sagrato della chiesa di Pozzolo, celebrata da Don Giovanni Cicala, e deposizione dei fiori con orazioni ufficiali al monumento dei caduti posto sulla strada provinciale per Pellegrino, Castellaro, Luneto, Bore. Daniela Bassi, TG Parmense. Daniela Bassi, TG Parmense. Ciao. 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 Ciao.